Musica Aldo Cicconofri, il maestro del coro polifonico Città di Tolentino, al quale chiediamo di presentarci questo concerto che si terrà domenica 15 aprile dove vi esibirete con il Sacred Concert di Duke Ellington? Il coro ha fatto questa esperienza, è stata molto positiva, perché si tratta di un tipo di musica che noi abitualmente non frequentiamo. Si tratta di musica jazz, in particolare di una musica swing molto piacevole, presenta qualche difficoltà ma ormai l'abbiamo superato a questo momento, nel senso che abbiamo studiato bene quest'opera qualche tempo fa, l'abbiamo già eseguita con Bruno Tommaso, in questa occasione abbiamo proposto noi a Diana Torto di venire a fare questa collaborazione e insomma il fatto stesso che abbia accettato, è un artista di fama internazionale, basta guardare la sua discografia, agli artisti con cui ha collaborato un po' in tutta Europa, per rendersi conto che è un artista veramente di grande spessore, quindi per noi è un grande onore e sarà anche un grande piacere eseguire di nuovo il Sacred Concert. Questa manifestazione verrà preceduta da un corso di canto che appunto viene tenuto dalla signora Torto, direi che nel complesso è una manifestazione molto interessante e organizzata in collaborazione con questa associazione Noi per Caldarola, se vuole darci un suo commento sull'intera manifestazione. Sì, abbiamo messo insieme diversi elementi, cioè Diana Torto che ha accettato il nostro invito per l'esecuzione del Sacred Concert, lei oltre che essere una grande cantante è anche una bravissima insegnante, io insegno in conservatorio a Pesaro e tramite alcuni colleghi avevo saputo che lei ha dei corsi di jazz in diversi conservatori italiani, frequentatissimi i suoi corsi e quindi con gli amici del coro e con gli amici dell'Associazione di Caldarola ci siamo detti perché non farla arrivare qualche giorno prima e dare l'opportunità ad alcuni nostri studenti, saranno soprattutto donne, in genere per questo settore sono le cantanti interessate, appunto diamo questa opportunità di studiare per qualche giorno con una grande interprete perché non è così facile frequentare dei corsi con dei grandi artisti, si ha l'opportunità di ascoltarli in disco, magari anche in qualche concerto, ma il fatto di averlo a disposizione per dare dei suggerimenti, per avere da lui degli esempi, in questo caso da lei degli esempi proprio dal vivo, mi sembra veramente una grande opportunità. Quindi con queste collaborazioni, con gli amici di noi per Caldarola, con il coro polifonico, la disponibilità del teatro messo a disposizione dal comune, mi pare veramente una bella organizzazione. Per tutti coloro che volessero avere informazioni o prenotarsi, come possono fare? Io penso che le informazioni le possano avere sul nostro sito, quello del coro polifonico città di Tolentino, e poi usciranno anche dei manifesti, metteremo in giro anche dei flyer, quindi non mancherà l'opportunità di informarsi, io ricordo che le date sono dal 13 al 15 di aprile, sono venerdì, sabato e domenica, inizieremo il venerdì pomeriggio e si concluderà tutto quanto con il concerto, la domenica pomeriggio alle 17.30 qui nel teatro di Caldarola. Dal punto di vista dell'orchestra jazz, da chi sarete accompagnati? Allora, sarà con noi la Colors Jazz Ensemble, diretta dal maestro Massimo Murganti, con lui abbiamo già realizzato quest'opera, è stata una bellissima esperienza, per questo la rinnoviamo, tra l'altro il maestro Murganti ha curato anche la riduzione per nonetto di questa opera di Ellington, l'insieme funziona molto bene, abbiamo già fatto un concerto a Corinaldo nel teatro, gremitissimo, fra l'altro è stata una bellissima serata e abbiamo visto che questo suono del nonetto con il nostro coro si sposa molto bene, per cui questa collaborazione sarà sicuramente un elemento molto positivo per questa esecuzione. Stefano Migliorelli, il presidente dell'Associazione Noi per Caldarola, al quale chiediamo di spiegarci quali sono le finalità dell'associazione che presiede e da dove è nata la volontà di creare questo evento in collaborazione con il coro polifonico Città di Tolentino. La nostra associazione Noi per Caldarola è un'associazione che è nata nel luglio del 2009, quindi un'associazione molto giovane per Caldarola. Sin dall'inizio abbiamo cercato di valorizzare il nome, il territorio e le tipicità della nostra cittadina, cercando di creare eventi culturali ad hoc, sia appunto culturali che enogastronomici. Tant'è che ricordiamo due edizioni di un estempore di pittura intitolata al professor Alimento e due feste estive a tema. Ora abbiamo però, con il proseguo del tempo, sentito il bisogno, la necessità di elevare anche la nostra voglia di fare cultura a Caldarola. Con questo siamo riusciti, grazie alla collaborazione appunto con il coro polifonico Città di Tolentino, ad organizzare questo evento che per noi è un grande e bellissimo evento musicale, cercando di indirizzarci nei confronti di un pubblico musicale particolarmente importante. Speriamo che questo evento ci permetterà di riportare a Caldarola persone, musicisti da tutta Italia e che ci permetterà anche di far tornare il nome di Caldarola a quei vecchi fasti che sono stati le passate edizioni delle mostre di pittura organizzate appunto qui nel nostro Paese. Debo ringraziare per la buona realizzazione e finale realizzazione di questo splendido evento sia il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e la Neoformata Prologo per il patrocinio. In più di sicuro il nostro ringraziamento particolare va a tutte quelle aziende che hanno creduto in noi e in questo progetto e quindi un grazie particolare va alla Ruten, all'Ittime, al Tesoro Ristorante Hotel, alla Saipa e alla Teat, soluzioni tecnologiche. Quindi speriamo di riuscire a portare a Caldarola qualcosa che fino ad ora probabilmente non c'è mai stato. Ricordiamo con il Presidente in ultima analisi le date nelle quali appunto questa manifestazione si svolgerà. Dunque dal 13 al 15 di aprile, quindi la settimana successiva alla Pasqua, dal 13 al 15 avremo il corso di canto tenuto dalla gestista di fama internazionale Nadia Torto per poi concludersi il 15 sera con il concerto presso il nostro Teatro Comunale diretto dal Maestro Cicconofri in collaborazione appunto con il Coro Polifonico Città di Tolentino. e nulla, speriamo di riuscire a fare quello che vogliamo, dare nuovo lustro a questa cittadina. e nulla, speriamo di riuscire a fare quello che vogliamo,